Si sono praticamente conclusi i lavori di ristrutturazione del Lido di Merano. Gli interventi hanno interessato la piscina olimpionica, è stata ampliata la vasca nel rispetto degli standard regolamentari dell'agonismo. Anche la piscina media è stata rinnovata e la vera novità è rappresentata da uno spazio dedicato al wellness. Inoltre è stata realizzata una zona tuffi con due trampolini. Per i più giovani il divertimento è assicurato grazie ai due acquascivoli, due toboga che si snodano da 13 metri d'altezza per una lunghezza di 100 metri. Possiamo vantare a questo punto all'interno di una cornice storica una struttura moderna che potrà servire sia per il tempo libero e sia per l'agonismo. In particolare abbiamo una piscina olimpionica quindi 50x25, una nuova piscina dei medi con un'area wellness, i nuovi scivoli, gli scivoli più alti penso della provincia, 12-13 metri di altezza, tutto realizzato in alluminio le piscine e sotto di noi, sotto i nostri piedi, tutta l'infrastruttura, tubazioni eccetera, tutto a vista per poter anche individuare eventuali perdite e poter immediatamente intervenire. Durante i lavori non si sono registrati inconvenienti ed i costi preventivati sono stati rispettati. L'importo a base d'asta è di 3 milioni 780, poi c'è stato un ribasso del 3,5 sui 3 milioni e 6. Tutti i soldi messi a disposizione dal comune di Merano ma tengo a precisare che poi tutta la gestione della gara europea proprio per l'individuazione della ditta e tutti i lavori per l'esecuzione dell'opera sono stati direttamente affidati a Meran Arena che ha agito in qualità di committente. L'inaugurazione del Lido è prevista per giovedì 21 maggio alle ore 20 con musica dal vivo ed uno show acquatico. Il giorno successivo si aprirà ufficialmente la stagione con la giornata delle porte aperte.